...solo perché riescono a mettersi adosso quello che il caso vuole. Quello che riescono a avere la testa, un tale confusione, sbleggeri la confusione, che questo fa sì che quando qualcuno vi guarderà con una certa diffidenza, con un certo dissappunto, vorrà dire che siete su una strada prosta, che il Signore Lì non è un profeta, che il Signore Lì è uno che non ha mai avuto 18 anni. E quando questi bravi, quindi non pensi per bene, Signori, schifittosi peraltro perché non vanno a mettere le mani da nessuna parte, perché hanno paura di contagiarsi qualsiasi forma umanoide di sentimento. A questi Signori non capiterà mai di camminare e di accorgersi che davanti a loro c'è un seme. Probabilmente lo calpesteranno, perché non sanno quanto sia importante rispettare un seme. che un seme ci dà la possibilità di essere qui e quindi di dare a un altro seme la possibilità di essere qui domani. Adesso quando raccoglieremo questo seme fatemi vedere quel Signore che ne rimarrà sicuramente stravolto, perché non capirà, perché il suo seme probabilmente l'ho già venduto. Grazie! 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 Grazie!